quindi ci rivolgiamo principalmente a tre categorie i franchisor che già hanno sono la casa mare già hanno una catena e si vogliono sviluppare casomai anche a livello internazionale gli aspiranti franchisor cioè coloro che hanno già un punto vendita che funziona che funziona bene lo vogliono duplicare e gli aspiranti francesi che sono coloro i quali vogliono mettersi in proprio seguiti da un grande marchio o da una casa madre che gli possa dare una sussistenza il famoso know-how le conoscenze per non fare degli errori da neofiti. Ecco prima non c'era uno sportello franchising quali sono i cambiamenti che comporta i vantaggi ovviamente in questo caso che ne derivano? i vantaggi sono sicuramente in un momento dove bisogna inventarsi il lavoro il posto fisso non c'è più si parla che nei prossimi dieci anni anche i nostri figli cambieranno all'incirca 20 lavori quindi cancelliamo assolutamente l'idea del posto fisso mettiamoci in gioco lo sportello franchising può dare una consulenza un sostegno a queste persone ultimissima domanda andiamo incontro a quello che sarà poi l'evento del 18-19 maggio un evento importante per il nostro territorio e un vero e proprio rilancio per tutti voi ce ne vuoi parlare un po' meglio? assolutamente e la maggior parte delle iniziative di imprenditoria e business sono nel nord e non è giusto, io sono legato molto al territorio quindi di conseguenza Progetta che è il leader nelle fiere da oltre 23 anni fa la BMT, Borsa Mediterranea del Turismo, Pharma Expo, Arcada e Cibus ha sposato la causa franchising, la causa franchising al sud quindi sarà l'unico evento del centro sud per imprenditori, start-up in franchising e franchising dove ci potrà essere la possibilità di fare matching tra chi vuole investire e tante offerte, oltre 100 marchi già hanno dato la loro adesione grazie grazie